Sarei gentili telespettatori, il nuovo appuntamento è questo che noi investiamo molto in risorse. Ciò deve dire che si è collaborato in una azienda tedesca e qui abbiamo bisogno di tipologie di rifiuti che servivano ciascuno a una propria filiera. Ovviamente l'Italia è per noi sempre il nostro paese, quindi deve fare ricerca sui piatti. Ciò è cambiato anche il volto di un'azienda. Buonasera gentili telespettatori, nuovo appuntamento di Made in Italy, questa sera parliamo di sostenibilità. Di un materiale importante, il vetro. Se ne parla poco cercheremo di capire anche com'è fatto con un video che abbiamo realizzato, intanto però cerchiamo di capirne di più con i nostri ospiti. Buonasera Mauro Lardini, Marketing Manager di AGC. Buonasera, buonasera a tutti. Do il benvenuto a Maurizio Gai, titolare della CILVA SPA. Buonasera. Buonasera all'architetto Orio De Paoli, docente del Politecnico di Torino. Buonasera. E buonasera all'architetto Carlo Micono di iStudio. Buonasera. Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Una situazione quella dell'edilizia sostenibile in grande cambiamento, un mercato inevitabilmente in crisi. Si parla tanto però di riqualificazione urbana, di edilizia appunto sostenibile. Professor De Paoli, ci vuole un po' descrivere qual è la situazione di questo settore? Si parla tanto di sostenibilità, si parla tanto di riqualificazione urbana, ma a che punto siamo? Siamo a punti interessanti dal punto di vista delle possibilità future. Oggi in Italia la situazione vede un modo di intendere l'edilizia ancora legato alla tradizione, con però possibilità di sviluppo assolutamente aperte. E parliamo in questo senso, mi piace parlare in situazioni di questo genere, del possibile futuro. Con capacità da parte di alcuni, specialmente i giovani architetti o ingegneri, di avere forza e innovazione nella progettazione, che può diventare un motore rispetto a un panorama edilizio tutto sommato ancora piuttosto tradizionale. Quello che a noi piace pensare e su cui stiamo lavorando da parecchio tempo è che il modello di edilizia ambientalmente sostenibile possa proprio diventare uno degli elementi, se non l'elemento principale, per far muovere un mercato che attualmente è, come tutti vediamo, molto fermo. Il meccanismo potrebbe essere, e io spero che anche queste trasmissioni, che questo modo di comunicare ci consenta di agire in termini culturali, il motore, la spinta verso una modalità nuova e veramente efficiente che faccia ripartire tutto il settore. Noi abbiamo un'edilizia oggi, come dire, molto lenta, la vendita di case è bassa, le costruzioni sono abbastanza ferme, e abbiamo invece una specie di miniera d'oro per tutto il settore edilizio che è il patrimonio edilizio esistente. Una lettura di questo patrimonio come bersaglio sul quale attivare tutta una serie di strategie per migliorare la prestazione e rendere efficienti questi edifici potrebbe far partire davvero l'edilizia. Io spero che questo sia una modalità, un modo di intendere da qui in avanti un futuro possibile per questo settore. Quando si parla però di edilizia sostenibile spesso si parla poco del vetro, qual è il suo rapporto con l'architettura sostenibile? Allora cominciamo, poi penso che i colleghi approfondiranno il concetto. Il vetro è elemento essenziale nell'edilizia sostenibile perché è l'elemento dal quale parte ad esempio l'effetto serra. Noi per riuscire a sfruttare la radiazione solare possiamo e dobbiamo usare elementi trasparenti, il vetro in primis. E attraverso un sistema vetrato è possibile con l'effetto serra, l'elemento di base, produrre calore e generare quindi comfort a costo zero. Poi è chiaro che è necessario avere capacità tecnica per controllare questo fenomeno in maniera corretta. Ma proprio di lì parte il meccanismo, è la cosa più semplice, un edificio, una serra messa al sole si scalda, in inverno abbiamo calore gratuito per sempre. E' chiaro il controllo, poi penso che loro ci diranno qualcosa su questo, è necessario per far funzionare in maniera coerente questo sistema. Prima cosa, secondo aspetto, il vetro ha un impatto formalmente assolutamente interessante, attraente. E' in fondo il sogno dell'uomo, l'edificio tutto trasparente, il vedere, vedere essere visti, il fatto di controllare l'ambiente personale nel quale si vive, però potendo guardare all'esterno. E in fondo l'origine di molta parte dell'architettura contemporanea deriva da quello. E in effetti la grande architettura di questi ultimi anni sta andando in questa direzione. Direi che possiamo vedere moltissimi edifici realizzati con soluzioni vetrate di altissimo livello che stanno sempre più apparendo. E' importante, qui vorrei spendere alcune parole, capire la necessità per progettare con il vetro di conoscere la tecnologia in modo approfondito. Come ho detto prima, la speranza, la possibilità che noi abbiamo per far ripartire il settore è quella di integrare le competenze nuove, la bioclimatica, la capacità tecnologica, i materiali innovativi possono proprio dare qualcosa di nuovo che oggi manca. E speriamo che questa cosa avvenga. Noi stiamo lavorando, il Politecnico di Torino è per l'università più pronte sulla linea a trasferire conoscenze alle nuove generazioni. Io trovo, direi che mi piace anche spezzare una lancia in questo senso, che i giovani architetti, per quanto riesca a vedere io, sono molto attenti, attivi e si stanno preparando proprio a entrare in una dinamica di mercato che sviluppi e sfrutti queste possibilità tecnologiche. Direi che auspico, anzi vedo, o prevedo, uno sviluppo visto l'interesse che questa cosa sta suscitando. Nei giovani bisognerebbe fare un'azione molto importante, io credo, nel suscitare interesse anche nelle altre parti della filiera, diciamo, la committenza prima di tutto, quella pubblica, quella privata, cioè il fatto di trascinare e far sì che il committente diventi adotto sul fatto che è possibile, ad esempio, fare edifici che non consumano quasi più nulla o perlomeno abbassino molto i consumi e possono essere realizzati con tecnologie oggi esistenti, non fantascientifiche, abbiamo già tutto. Bisogna avere la necessità di farlo, la voglia di farlo e cominciare a muoverci in questa direzione. Architetto Micono, c'è poca formazione tra gli addetti ai lavori e poca informazione tra i cittadini su queste tematiche e soprattutto su questo tema come il vetro? Sì, allora sicuramente ad oggi c'è ancora una scarsa informazione tra la gente comune, tra i non addetti ai lavori, iniziative come queste, ad esempio, sono decisamente importanti proprio per informare dal punto di vista della consapevolezza, del vero funzionamento delle cose perché spesso si hanno delle informazioni che mirano più a dare degli slogan, a dare quasi delle illusioni che si possano raggiungere certi risparmi energetici, certe prestazioni con sistemi che poi nella pratica, se non progettati bene, in realtà tutte queste prestazioni non le garantiscano. Quindi un primo settore su cui lavorare è proprio il settore dell'informazione presso chi non si occupa quotidianamente di questi aspetti ma si affida a dei tecnici che devono essere loro garanti del raggiungimento di ciò che viene promesso dal punto di vista delle prestazioni energetiche, ambientali o di sostenibilità in senso lato. Dall'altro c'è un discorso riguardante la formazione, formazione antelaurea, quindi la formazione degli studenti che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro e dall'altro la formazione di chi già opera nel settore edile. Come diceva giustamente il professor De Paoli, si sta lavorando molto sul dare una giusta, una formazione di alto livello alle nuove generazioni. Da una decina di anni alcuni atenei, tra cui il Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, alcuni tra gli atenei più importanti in Italia, hanno messo a punto dei corsi di laurea finalizzati al progetto sostenibile dell'architettura e dei corsi che vedono una vera integrazione tra discipline. Perché noi quando progettiamo un involucro, soprattutto un involucro vetrato innovativo che quindi garantisce prestazioni ambientali di alto livello o quando affrontiamo un progetto dal punto di vista della sostenibilità, facciamo un progetto integrato. Perché la sostenibilità è una disciplina trasversale, implica la progettazione energetica, impiantistica, edile, strutturale. Quindi se si vuole insegnare un approccio sostenibile al progetto non si deve rimanere chiusi in quelle che erano le discipline classiche, le strutture, gli impianti e così via, ma bisogna fare, mettere a punto dei corsi integrati. E questo fortunatamente, nell'ultima decina d'anni, come si diceva, molti atenei lo stanno mettendo in punto, appunto, e le nuove generazioni sono assolutamente pronte a usare questo nuovo approccio nel loro futuro, nel loro lavoro. Per quanto riguarda i professionisti invece che già da anni operano nel settore, l'Italia vede ad oggi ancora uno scenario un po' particolare. Diciamo, ci sono professionisti, singoli professionisti, che per propria vocazione, per propria passione hanno approfondito queste tematiche con mastercorsi di approfondimento spesso all'estero e che quindi fanno un po' da consulenti in questo campo, ma sono singole entità che poi per approfondire i singoli aspetti per trasformare l'input di un progetto sostenibile poi in realizzazione attraverso il cantiere si affidano poi a tecnici delle varie discipline. Mancano ancora in Italia, anzi ci sono ma sono ancora poche numericamente, quelle società di ingegneria di modello soprattutto anglosassone, che nel mondo anglosassone sono diffuse da oltre 30 anni, che possano offrire soprattutto nell'ambito di progetti di ampio respiro, di grandi dimensioni, quell'approccio integrato e quindi quei servizi integrati che garantiscano la sostenibilità dell'intervento e quindi anche la progettazione di involucri innovativi, portandoli fino al cantiere a 360 gradi. Vediamo però che negli ultimi anni alcune società di ingegneria italiana di grandi dimensioni si sono attrezzate e stanno lavorando molto su questo campo e quindi anche da questo aspetto direi così come per l'università secondo me il nostro paese si sta assolutamente allineando ai paesi europei, quindi il presente e l'immediato futuro in questo campo è assolutamente promettente. Lardini, in un momento di grande cambiamento anche per l'edilizia, vogliamo un po' dire come si sta muovendo AGC e soprattutto di cosa vi occupate? Allora, AGC è già nota come Glaverbell, la società leader al mondo nella produzione di vetro piano, un vetro utilizzato per l'edilizia e nell'ambito automotive. Nello specifico ambito dell'edilizia noi sentiamo molta responsabilità sotto questo punto di vista, la responsabilità di produrre un materiale che per la proprietà intrinseca del materiale estresso è un materiale trasparente e invisibile ma che lavora in maniera dinamica con l'ambiente al fine di garantire un comfort interno e quelli che prima erano dei serramenti quindi delle partizioni vetrate molto piccole nelle residenze piuttosto che negli spazi abitativi che dovevano comunque tamponare la parte dell'involucro cieco che rimaneva aperto, adesso iniziano ad essere sempre più grandi perché garantiscono visibilità e comfort e quindi interagiscono proprio con l'ambiente, contribuendo notevolmente a migliorare l'ambiente in cui viviamo. Molte lavorazioni possono essere fatte su questi vetri, si può ottenere del vetro performante da un punto di vista di sicurezza, un vetro performante da un punto di vista efficienza energetica, un vetro che non lasci uscire il calore verso l'esterno, vetri che migliorano le performance acustiche. Come ogni tanto parlando anche con dei colleghi si pone che uno dei problemi del nostro settore è che lavorando su materiale trasparente spesso non ci accorgiamo di averlo e sentiamo le performance di questo materiale in un momento in cui non l'abbiamo. Immaginiamo un appartamento dove questi nostri vetri stanno performando molto sotto un punto di vista acustico in una città abbastanza trafficata, sentiremmo la mancanza di questi qualora non li avessimo, ma non ci rendiamo mai conto del valore aggiunto che ci stanno dando ogni giorno. È possibile di fatto coniugare forma e performance di un edificio? Beh assolutamente sì, tutta la vasta gamma che noi proponiamo sul mercato permette agli architetti, agli studi di progettazione di rispettare le esigenze stilistiche di forma con farle sposare con diciamo quelle che sono le caratteristiche prestazionali che si vogliono dare all'edificio. Inoltre ci sono delle certificazioni che vengono seguite in maniera abbastanza restrittiva adesso dal mercato come la LID piuttosto che la BRIM, sono certificazioni che danno valore aggiunto a questi edifici. Il vetro indubbiamente partecipa in maniera proattiva al raggiungimento di questi premi per gli edifici, dando valore aggiunto alla costruzione. Maurizio Gai, vogliamo dire anche di cosa si occupa Civea e come sta andando? Qual è la situazione del mercato dal vostro punto di vista? Dunque noi siamo una società di distribuzione nel senso che rende disponibile al mercato di coloro che tagliano il vetro i prodotti che arrivano dalla GC. Quindi ci rivolgiamo a quello che chiamiamo banalmente la vetreria che è poi quella che va sul mercato tutti i giorni a non proporre. Questo è il grande problema che viviamo quotidianamente e che forse restante la nostra presenza sul mercato finale avvertiamo in maniera molto più marcata rispetto a coloro che si occupano di grandi progetti o di coloro che vanno a produrre. Lei mi chiede come va l'edilizia? L'edilizia non sono dati miei, sono dati del lance, va malissimo, non voglio entrare nel dettaglio dei numeri, ma cito banalmente l'aspetto visivo, andiamo in macchina per la città, per le autostrade, GRU non ne vediamo. Credo che questo sia il dato assolutamente più empirico e più toccante su quello che può essere oggi l'aspetto drammaticamente basso del mercato dell'edilizia. Non si costruisce più. E io credo che non si costruirà più anche nel futuro, però abbiamo la possibilità di intervenire, grazie al vetro, su quella che è la riqualificazione di un patrimonio di edifici esistenti immenso. Oggi citava l'architetto il discorso che manca l'informazione tra i non addetti ai lavori. Io vorrei andare oltre dicendo che è proprio l'addetto ai lavori che oggi non ha conoscenza. Noi subiamo un problema di crescita. Parlo di settore veterario. Siamo cresciuti troppo in fretta negli ultimi trent'anni come proposta vetraria. Per duemila anni il vetro non si sceglieva, era un prodotto unico di tamponamento. Negli ultimi trent'anni l'offerta di vetro è aumentata in maniera esponenziale e oggi si può progettare soluzioni sia da un punto di vista di risparmio energetico, sia da un punto di vista di sicurezza, sia da un punto di vista di confort acustico eccezionali. Il problema enorme che viviamo e noi ancora di più rispetto a loro è che nel quotidiano questa conoscenza di performance manca. Ed è quello che mi fa ben sperare per il futuro, nel senso che da una parte abbiamo la necessità di riqualificare, dall'altra parte abbiamo la necessità di informare se le due esigenze dovessero incontrarsi. Questo mi porta a una positività su quello che può essere lo sviluppo dell'economia dell'edilizia. Fermo restando che non credo alla costruzione nuova del futuro. Allora noi adesso ci fermiamo perché vediamo questo video che abbiamo preparato un po' su come fatto il vetro e poi parleremo anche di certificazione e sicurezza. Vediamo il vetro, vediamo il servizio. Il vetro, un materiale tanto amico quanto moderno e tecnologico. Oggi trova spazio in moltissime applicazioni, complementi d'arredo, rivestimento muri, nel campo dell'auto e del solare, fino all'edilizia avanzata che caratterizza sempre più anche gli skyline italiani come a Milano, Roma e Genova. Uno degli impianti per la produzione di vetro più avanzati in Europa è lo stabilimento AGC di Cuneo, specialmente per le soluzioni ecologiche ed ambientali adottate, come l'alta ciminiera collegata direttamente all'ARPA Piemonte che ne controlla costantemente le emissioni, o come l'innovativo elettrofiltro, capace di riutilizzare energia proveniente dal calore utilizzato in produzione. La produzione odierna di vetro avviene mediante un processo denominato FLOT, ovvero ottenuto mediante il galleggiamento di vetro fuso. L'impasto che verrà fuso nel forno è costituito principalmente da sabbie e rottame di vetro. Le enormi quantità di vetro rottamato, che costituiscono la gran parte del nuovo vetro che si va a produrre, fanno di questo materiale un esempio unico di riciclabilità. Suddivise per colorazioni delle montagne di vetro, vengono adagiate fuori dall'impianto in attesa di essere reintrodotte nel ciclo produttivo. Le materie prime che compongono l'impasto sono principalmente sabbia di silice, soda e calce, pesate e correttamente miscelate. All'impasto viene poi aggiunto il rottame di vetro, che oltre ad essere materiale riciclato, permette di abbassare la temperatura e dunque di risparmiare energia. L'impasto è pronto ad entrare nel forno di fusione. Due file di bruciatori lavorano in alternanza di 15 minuti. Le fiamme che sono in grado di generare portano il forno ad una temperatura di circa 1500 gradi, una temperatura infernale che vetrifica le sabbie. Ora il materiale vetrificato si presenta come un liquido, che per come progettato l'impianto uscirebbe solo nello spessore di 6 mm. L'inserimento di barriere nel bagno di vetro fuso ne alza il livello, rendendo così possibile produrre gli altri spessori, da 8 fino a 25 mm. Per produrre spessori inferiori al 6 mm, vengono introdotte delle ruote dentate che accelerano l'uscita del vetro, così da produrre 5, 4, 3 o anche il 2 mm. Una volta uscito dal bagno di stagno, il vetro entra in una fase detta ricottura. Una lunga serie di rulli porta il vetro in un sistema di raffreddamento controllato. Essendo la superficie superiore di una lastra la parte che si raffredda prima, una serie di getti d'aria calda ne assicura un raffreddamento omogeneo affinché il vetro non sia tensionato e dunque più morbido al taglio. Eventuali tensioni o imperfezioni vengono evidenziate da uno scanner che controlla ogni millimetro di vetro prodotto. Le informazioni vengono poi elaborate e la macchina del taglio ne ottimizza le lastre. Il controllo qualità viene anche effettuato manualmente. Si verifica la morbidezza al taglio e l'assenza di tensioni che producono difetti ottici. Nella dimensione di lastre di 6 metri per 3,21 le lastre vengono caricate in pacchi su speciali cavalletti. A questo punto il materiale, catalogato in tipologie e spessori, è pronto per essere spedito. Bene, Architetto De Paoli, durante la pausa Lardini diceva si costruisce di meno ma si può e si deve e si costruisce meglio probabilmente. Si dovrà costruire meglio sicuramente. La ripartenza del sistema edilizio italiano, che come abbiamo detto prima è assolutamente in crisi, dovrà trovare una via, una linea. La linea del cambiamento sicuramente non potrà essere nelle grandi ricostruzioni, è inutile, non serve, non abbiamo bisogno di grandi volumi di costruzione nuova. Abbiamo bisogno di qualificare, riqualificare il patrimonio con degli elementi che funzionino. L'accento è stato posto prima sul fatto, da lei cadono in una domanda, che si possano produrre architetture di buon livello e che abbiano sia un funzionamento termico-energetico positivo sia qualità. Diciamo, insistiamo su questa cosa, tutto il modello di architettura che dovremmo pensare ad ore in avanti deve poter funzionare in maniera egregia sotto il profilo delle prestazioni. Possiamo farlo, abbiamo strumenti, strategie, materiali, c'è già tutto. Ma sappiamo anche che è possibile realizzare l'architettura che abbiano un'immagine assolutamente consona alla qualità nazionale che dovrà addirittura essere implementata. Questo trasferimento tecnologico, si diceva, io parlavo dello stimolare un mercato è diviso nel suo complesso, tutta la filiera. Certo, per arrivare alla, come dire, alla tecnica alta, Archietto Micono indicava la necessità della presenza sul territorio di strutture di progettazione più evolute per sfruttare queste potenzialità. Certo, funziona tutto. Io continuo a pensare di dover far partire la parte culturale. Bisogna informare la gente, si può fare, si deve fare, la riqualificazione sarà un motore, deve essere quello, perché non abbiamo altro, o perlomeno abbiamo più che altro quello, però sapendo che riqualificare può voler dire veramente fare dei passi enormi. Possiamo far funzionare gli edifici a bassissimo consumo energetico. Tra l'altro ci sarà una norma, anzi c'è una norma europea che prevede per tra il 19 e il 20, quindi fra pochi anni, la necessità di realizzare edifici pubblici e privati, nuovi, con sistemi assolutamente prestazionali che implichino il non usare energie non da fonti rinnovabili. Per cui gli edifici che verranno costruiti da allora dovranno funzionare praticamente soltanto con le prestazioni dell'involucro. Il vetro sicuramente dovrà fare la parte del leone in questa cosa. Il vetro e altre strategie. Ma il fatto è che per arrivare lì dobbiamo cominciare oggi a muoverci e per noi, l'abbiamo già detto, costruire nuovo probabilmente non avrà molto spazio, ma dobbiamo riconvertire e insegnare in qualche modo anche alle imprese ad attrezzarsi per lavorare sul costruito, sull'esistente in maniera corretta. Si può fare ormai qualunque cosa, siamo assolutamente padroni di questo tipo di tecnologie, diffondiamolo, parliamo di questo. La vostra trasmissione spero funzioni in questo senso, è uno dei tanti strumenti che vogliamo sfruttare per questa cosa. Diciamolo, si può fare, si può fare tutto, è possibile farlo in modo consono alla grande storia dell'architettura nazionale. Sì, lo faremo, vorremmo farlo. Ecco, magari rispettando anche le regole e soprattutto magari puntando di più sulle certificazioni, Lardini, c'è stato un abuso di magari poca attenzione sulla tematica delle certificazioni, abbiamo visto soprattutto nell'edilizia? Io penso che di fatto, come diceva il professor Orio, il professor De Pali, ci sia proprio questo, ci siamo del tuo, ci conosciamo, il fatto che non vengano poi ottemperate alcune regolamentazioni sia frutto poi di una superficialità nella conoscenza, ma diventa abbastanza, diciamo, un'utopia aspettarsi che tutti gli addetti ai lavori abbiano la completa conoscenza tecnologica e in termini anche delle ultime ritrovate della tecnologia in tutti i materiali. Quello che secondo me diventa un punto importante è la comunicazione, come per tante altre cose. Quindi è importante saper comunicare quali sono le persone di riferimento, le figure di riferimento per determinati ambiti che descrivano una, ipotecatamente, un capitolato o delle specifiche che poi queste vengano rispettate. Spesso e volentieri ci troviamo poi in fase realizzativa dove delle persone che non hanno delle competenze cercano delle soluzioni alternative, soltanto per ragioni economiche, su dei prodotti che non sono paragonabili. Allora lì non diventa la necessità di avere della competenza, ma di saper comunicare meglio quelli che sono le esigenze e quelli che sono le performance da rispettare. Maurizio Gai, prima abbiamo accennato un po' sul tema della cultura, ecco, manca in Italia un po' la cultura sulla sostenibilità e magari anche sul vetro, sui grandi vantaggi che può avere questo tipo di prodotto. Manca completamente, anche perché noi, come dire, scontiamo quello che a mio avviso è uno dei più grandi pregi del vetro, che è la trasparenza. Questo grande pregio ne fa diventare un po' il suo limite, nel senso che nel quotidiano non c'è una tangibilità estetica di che cosa andiamo a mettere. Spendiamo più volentieri dei soldi per una piastrella, pur essendo un prodotto molto povero, ma perché ci dà una soddisfazione estetica. Il vetro, per quanto molto performante, molto di sicurezza e tutte le caratteristiche di trasparenza che può avere, pensiamo alla nuova tecnologia oggi di un vetro estracchiaro, ma non ci dà quell'effetto immediato di beneficio. Perché non lo vediamo? Io vedo, ritorno a un discorso di un patrimonio immobiliare esistente, prendiamo una via come quella dove siamo, il vetro ci permetterebbe di intervenire immediatamente laddove riusciremmo a dare più cultura su tre aspetti, l'aspetto dell'inquinamento, l'aspetto della sicurezza, spesso dimenticato, causa di morti quotidiane in un contesto, non dico europeo, ma addirittura italiano e ne faccio anche una questione molto personale di estetica, il vetro è bello. Potremmo sicuramente immaginare un grosso movimento del settore che poi porterebbe un'attività edilizia a muoversi, su rendere più sostenibile l'edificio da un punto di vista energetico, pensiamo oggi quanti edifici esistenti sono fonte di dispersione termica immensa e quindi di inquinamento, pensiamo oggi a quanti edifici, spesso anche edifici pubblici e ancora più grave edifici pubblici dove ci sono dei bambini, penso alle scuole, dove i vetri non sono di sicurezza, ma dove l'aspetto della conoscenza, o meglio dire della non conoscenza, limita l'utilizzo di questo prodotto a vantaggio di altri settori. Quello che trovo nel quotidiano è che campi diversi, tipo l'aspetto elettrico o idraulico, si pongano in un contesto di un edificio con una professionalità maggiore rispetto alla vetreria. Ecco, è questo secondo me il piano su cui si deve pensare di lavorare per arrivare poi a coniugare, come dicevamo, la performance con l'estetica. Architetto Micono, però si parla tanto anche di aiutare il settore, si parla tanto di incentivi fiscali. Cosa bisogna fare per ridare slancio a questo tipo di settore? Magari quali incentivi possono essere utili? Esatto, allora diciamo che negli ultimi anni qualcosa è stato fatto e soprattutto negli interventi di stampo minore, ma molto più diffusi sul territorio, un certo movimento, quindi un certo motore è stato dato da tutti quei bonus fiscali legati proprio alla riqualificazione energetica agli edifici. Forse il limite di quanto fatto finora e quindi ciò che potrà essere fatto per aumentare ancora di più l'effetto volano che questi incentivi possono dare alla ripresa del settore edile, soprattutto volto alla riqualificazione energetica, è una pianificazione di questi incentivi su scala temporale maggiore. Abbiamo visto che finora questi incentivi sono sempre stati decisi e confermati di anno in anno o poco più, quindi sia chi voleva, si approcciava a fare un investimento, ma anche l'industria che doveva eventualmente riattrezzarsi, riqualificarsi per far fronte a una richiesta maggiore, è sempre stato un po' legato da questa incertezza temporale, cioè scade a dicembre e quindi mi spingo fino a eccetera eccetera. Se la pianificazione fosse fatta su scala temporale più lunga sicuramente il volano avrebbe un effetto più importante. Un altro aspetto non secondario legato proprio aspetti fiscali o normativi in senso lato sarebbe forse quello di riconoscere non solo una defiscalizzazione, un incentivo a parametri più o meno tradizionali, quindi le prestazioni dell'involucro, quindi l'isolamento delle pareti opache, dei serramenti e così via, ma riconoscere il valore della sostenibilità in senso lato. Si è parlato prima di applicazioni di protocolli per la certificazione ambientale che sono riconosciuti a scala internazionale, quali il LID, il BRIM o altri, e che il mercato già sta riconoscendo, perché sta riconoscendo un valore aggiunto a quegli edifici che hanno un certo tipo di certificazione. Se anche questa certificazione potesse fruttare dei bonus fiscali o delle detrazioni, sicuramente gli investitori, soprattutto investitori di stampo medio e alto, quindi di interventi più importanti nell'ambito della riqualificazione a scala urbana, potrebbero averne sicuramente un beneficio. Anche detto, si parlava appunto di eco bonus, cosa ne pensa a riguardo e in generale sugli incentivi? Io assolutamente a quello che è stato appena affermato da Carlo Micono. Anche qui torniamo al discorso assolutamente determinante, culturale. Bisogna trasferire cultura a vari livelli. Adesso è stato appena accennato questa questione dei grandi investimenti e chiariamo meglio questo aspetto. Il nostro modello di certificazione, a parte questi grandi sistemi libri, ma anche la certificazione obbligatoria in Italia per il singolo piccolo edificio, tutto sommato ancora oggi non viene letta come una modalità per qualificare anche economicamente l'edificio, ma in qualche modo come una sorta di balzello minimo da pagare e di una burocrazia di bassa qualità, tanto che incide poco sul valore della casa. È importante chiarire il più possibile all'utente finale, agli operatori intermedi, agli investitori, il fatto che le certificazioni determinano la qualità dell'edificio. Un edificio che è in classe A, che davvero è in classe A, attenzione perché non è così facile, ci sono spesso dubbi sulla qualità vera, perché non ci sono per ora controlli, dovrebbe avere una valutazione maggiore. Apro questa piccola parentesi, sono state fatte da vari enti delle verifiche sulla qualità degli edifici rispetto alla certificazione e in Italia siamo un po' lontani, ma perché? Perché non c'è ancora un sistema di verifica della prestazione vera e propria, è quello che forse Carlo stava accennando. Bisogna anche qui implementare il sistema di verifica per portare il livello di conoscenza della qualità vera e propria dell'edificio, come dire, trasferirlo alla valutazione economica. Allora, io produco un edificio di alto livello e lo produco, ma come si diceva prima, sono assolutamente d'accordo sul riqualificare, sull'entrare, sul vetro, anche certo, tutto corretto. Miglioro la qualità, l'edificio deve valere di più. Come faccio a saperlo? Attraverso un sistema chiaro che mi possa permettere di capire le qualità intrinseche dell'oggetto. In particolare, se energeticamente funziona meglio, mi farò spendere meno, quindi nel tempo avrò una ricaduta positiva. Per oggi questa cosa è ancora poco sentita, poco intuita. Bisogna lavorare su tutti i fronti. Io continuo a fare questo ragionamento generale sul cliente finale, l'utente, il committente, l'amministratore di condominio, i vari livelli decisionali che attengono al fatto di far muovere delle scelte. Gli strumenti ci sono tutti, però dipende veramente anche da voi, intendo chi si occupa di comunicazione, riuscire a mettere in circolo informazioni. Abbiamo paradossalmente più capacità tecniche, più possibilità, più tecnologie ormai acquisite, mature, rispetto alla richiesta che viene fatta. Noi vorremmo che l'ambito dell'utenza prima, della committente in generale, ci chiedesse di fare edifici più prestazionali. Siamo capaci di farli, si possono fare. Chiedetecelo, va bene? Anzi, voi cominciate a comunicare il fatto che si può fare in modo tale che poi a ricircolo ci venga richiesta questa possibilità. Siamo in grado. Noi intanto vi proponiamo però di valutare questi cinque punti su cui ci soffermiamo per sostenere le piccole e medie imprese. Attribuzione del Made in Italy solo per le aziende che producono in Italia, crediti dello Stato in pagamento entro 60 giorni, eliminazione dell'IRAP, diminuzione delle tasse sul lavoro e defiscalizzazione degli investimenti. Lardini, cominciamo da te. Qual è, secondo il tuo punto di vista, la misura più urgente da chiedere a questo nuovo governo? Allora, va permesso che sono tutti punti estremamente importanti. Direi, probabilmente sbagliando, ma pensando ai clienti, che i pagamenti sicuri nei 60 giorni siano un elemento principale di attenzione. Ma secondo me diventerebbe soltanto un qualcosa per prolungare un'agonia, migliorare, anzi dare una parvenza di sollievo. Io personalmente credo molto nelle persone, nelle competenze delle persone. Pertanto penso che defiscalizzare investimenti e formazione sia assolutamente la cosa migliore. Molto, Gai? Parlo da imprenditore, non mi sento di fare una scelta. Abbiamo necessità di tutte queste cose. Crediti di Stato in pagamento, benissimo, ma non è risolutivo. L'eliminazione dell'Ira, benissimo, non è risolutivo. E l'insieme di queste manovre che ci possono portare a vedere con più ottimismo un futuro che oggi è difficile. Archidezzo? Sono d'accordo assolutamente con questo, ma io punto, dato che ci chiede di puntare su una cosa, sulla defiscalizzazione degli investimenti, perché questa cosa può, secondo me, far ripartire un circuito virtuoso di investimenti sulla ricerca, che è una cosa sulla quale l'Italia è sempre stata, come dire, avanti, fra i primi paesi nel mondo. Anche attualmente, nonostante le difficoltà, siamo, dire, ben allineati rispetto a questi aspetti. Ma avremmo bisogno di avere più cultura e per farlo dobbiamo avere investimenti che le imprese possono fare su di noi. Quindi direi, su questi, tutti vanno bene, punto assolutamente sulla defiscalizzazione degli investimenti. Ha chiesto Nicola? Mi associo anch'io a quanto detto da Orio, perché sicuramente tutti i punti sono importanti, perché riuscire a dare un respiro economico, quindi pagando i crediti entro 60 giorni o eliminando alcune tasse, eccetera, dare spiro temporaneo alle aziende, come si diceva. Ma permettere alle aziende di fare investimento, di fare ricerca, di fare formazione in formazione, soprattutto in un momento di crisi è sicuramente una strategia per riprendere. Forse il momento di crisi, visto con altri occhi, è un momento in cui si cerca qualità e forse proprio attraverso la ricerca della qualità si riesce a percorrere una delle possibili strade che permettono di uscire dall'impasse di questo momento. Lardini, a proposito di formazione, voi avete organizzato un evento, un progetto insieme al Politecnico di Torino. Allora, questo atelier è stato organizzato dal Politecnico di Torino, dai professori De Paoli e Micono e anche altri colleghi. Noi abbiamo deciso di sostenerlo, in realtà, non di organizzarlo perché per l'appunto crediamo molto nella formazione e nella formazione pre e post laura. Questo non solo da un punto di vista di ritorno di immagine, ma proprio da un punto di vista emozionale e quindi ci faceva piacere dare un messaggio positivo a chi arriverà a presentarsi come professionista sul mercato di questo. In fondo, proseguo, in realtà, e questo fa parte di questa linea che potrebbe nascere da una defiscalizzazione di interventi e di investimenti che la loro azienda ha pensato di fornire. Sono venuti da noi, ci siamo trovati su questo fronte e hanno sovvenzionato questo premio che è stato dato agli studenti dei nostri atelier, io, lui, altri docenti, sono tanti, non li citiamo tutti, e questa cosa ha permesso di istituire questo premio per il quale gli studenti hanno progettato edifici di alto livello ambientale. Loro sono venuti, hanno dato il premio, senza far fare nulla di diverso rispetto all'attività didattica normale, hanno premiato i migliori progetti. Questa cosa ha stimolato tantissimo gli studenti, ci sono stati esiti veramente, anche inaspettati in qualche modo, perché ha divertito gli studenti, gli entusiasmati, come stava dicendo Lardini, e ha permesso proprio di mettere gli studenti di fronte anche a un modo reale. Ma anche noi, perché, l'idea di più, abbiamo riscontrato in chi non è inserito a 360 gradi già nel contesto lavorativo, dove si applicano, diciamo, delle attività consolidate, dei sistemi consolidati, in qualcuno che ha sperimentato. E tra volte mi sono fermato anche a chiacchierare con l'architetto Micono su delle soluzioni che di fatto erano innovative. E quindi potevano diventare veramente spunto, poi, per creare qualche sistema innovativo ed efficace. Gli studenti, i nostri studenti, questi sono dell'ultimo anno di architettura, degli ultime generazioni, stanno diventando veramente padroni di tecnologia di alto livello. Un intervento di questo genere ha incentivato questa cosa. Ma noi vorremmo che succedesse sempre, vorremmo avere... Un po' la consuetudine. Certo, come consuetudine, le imprese che lavorano fianco a fianco a noi danno, in questo caso, un premio e anche un po' di informazioni, ma di più potrebbero entrare e dovrebbero. Ci sono già anche realtà di questo tipo attivate con il Politecnico, per amor del cielo. Ma, come dire, su questi in particolare, che è nata da poco, avevamo consuetudine con loro molti anni fa, e si è visto proprio il fiorire di questo interesse, di questo entusiasmo. Anzi, spero che possiamo proseguire, ma penso di sì, visto il loro... Posso scrivere una parola? Mi sbilancio. Bene, siamo arrivati alla fine. Ringrazio Mauro Lardini. Grazie a tutti, grazie. Grazie a Maurizio Gai, grazie a voi, grazie all'architetto De Paoli, grazie, e grazie all'architetto Micono. Grazie. Noi, come al solito, ci vediamo giovedì prossimo. Buona serata.